Il tema del rinnovo delle concessioni ambulanti, l'intervento sostanzialmente si è reso necessario per sanare, per uniformare il trattamento che alcuni beneficiari avevano avuto con il rinnovo di 12 anni che era stato disposto nel 2020 con quello che invece riguarda altri che soprattutto per una difficoltà dei comuni non ne avevano potuto beneficiare creando di fatto una disparità tra comune e comune e tra operatore e operatore in un contesto nel quale bisogna anche ricordare che per una serie di ragioni queste aziende vanno diminuendo e quindi gli spazi disponibili aumentano dopodiché ovviamente l'appello del Presidente non rimarrà inascoltato, credo che su questo occorrerà valutare nei prossimi giorni con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri interessati l'opportunità di ulteriori interventi chiarificatori sulla materia. Per quello che riguarda il tema dei balneari, lei sa che questo governo ha fatto per la prima volta un lavoro che curiosamente nessuno aveva inteso fare prima che è la mappatura delle nostre coste per stabilire se esista o non esista il principio della scarsità del bene che è fondamentale per l'applicazione della direttiva Wolkenstein. Questo curiosamente in tutti questi anni dai quali la direttiva Wolkenstein è entrata in vigore nessuno ha ritenuto di doverlo fare. Noi su questo abbiamo proceduto abbastanza velocemente, abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta intanto di mettere ordine alla giungla di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti che necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europea per arrivare al duplice obiettivo da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori che è sempre stata una delle nostre priorità e quindi questo adesso è il lavoro che noi stiamo facendo e che riteniamo sia a questo punto diventato molto importante perché c'è obiettivamente una difficoltà sia per gli operatori che non hanno certezza sul loro futuro sia anche per gli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare a partire dai comuni che hanno oggettivamente delle difficoltà che ci segnalano continuamente e quindi è oggetto del lavoro delle prossime settimane. Grazie Marco Galluzzo, Corriere della Sera. Buonasera Presidente, volevo chiederle una cosa di cui in Italia si discute da tanti anni ma che poi passano i governi e rimane soltanto nelle cifre delle analisi di istituti internazionali. Da pochi giorni l'Italia presiede il G7 e per curiosità, pensando alla domanda che dovevo fare sono andato a vedere la classifica della Banca Mondiale sul doing business, sulla capacità di attrattività degli investimenti dove noi perdiamo punti ad ogni legislatura. Siamo cinquantottesimi in questo momento e i paesi del G7 che con noi fanno parte del G7 purtroppo ci precedono quasi tutti. La Francia che è la penultima è al trentaduesimo posto. Ora, lei non c'entra niente, mi dirà come ha spesso detto in queste occasioni visto che governo da solo un anno, però le volevo chiedere, visto che queste classifiche valgono quello che valgono sono molto importanti però sono anche relative, però per esempio mi ha colpito un dato addirittura noi siamo al centoventesimo posto per la capacità di rispettare e di far attuare i contratti pubblici e privati su centonovanta paesi. Ora, il centrodestra da vent'anni, da trent'anni dice che vuole liberalizzare, aprire, togliere laccioli, sburocratizzare. C'è un provvedimento del suo governo di oggi già fatto o del futuro che secondo lei dovrebbe occuparsi di questa materia? Una piccola postile, è stato fatto un calcolo negli ultimi quindici anni o diciotta anni se l'Italia avesse avuto un livello di investimenti esteri pari a quello della media europea avrebbe incassato più di 500 miliardi, quindi 20-30 miliardi l'anno che per un paese che non ha i soldi per quasi nulla non sarebbe stato male. Postilla nella postilla, Intel non è un'altra domanda, Intel non investe più in Italia, ha scelto di andare in Polonia, in Francia e in altri due paesi europei. Grazie. Dunque grazie a lei è oggettivamente un tema, è un tema che è figlio di una stratificazione di problemi che noi abbiamo che vanno sicuramente dalla questione delle lungaggini burocratiche fino ai tempi della giustizia, lo sappiamo bene, lo sappiamo bene tutti. L'Italia è una nazione nella quale in molti investirebbero molto volentieri se avessero maggiori certezze. Io penso che queste siano due riforme che servono, cioè la riforma della burocrazia e la riforma della giustizia e le considero due delle mie priorità per il prossimo anno. Perché guardi, vado in giro per il mondo a parlare con tutti e mi rendo conto di quanta voglia d'Italia ci sia, di quanto rispetto, di quanta attenzione, di quanto potenziale in espresso noi abbiamo. Non è facile, perché lei sa anche che in questa nazione quando si cerca di mettere mano ad alcuni ambiti le opposizioni, non in questo caso le opposizioni politiche, ma insomma le opposizioni si fanno sentire, ma penso che se non ha il coraggio di provarci un governo che ha la maggioranza, che noi vantiamo, insomma la si spera stabilità che in molti ci riconoscono davvero, insomma ci sarà poca speranza di fare di più. Dopodiché ci sono diversi investimenti sui quali stiamo cercando di lavorare, penso al tema dei semiconduttori, che lei citava, insomma il caso di Intel, e sicuramente dare dei segnali, come noi da una parte abbiamo dato un segnale di attenzione al mondo della produzione, cioè attenzione, uno dei messaggi che per me era importante dare in questo anno e che abbiamo dato è che non c'è un governo, diciamo ostile a chi produce, anzi, lei ricorderà non disturbare chi vuole fare, è stato uno dei miei slogan, io la penso davvero così, penso che ci debba essere uno Stato che controlla, ma non uno Stato oppressivo, penso che debba esserci uno Stato che si mette al fianco di chi produce, di chi investe, di chi crea ricchezza, di chi crea posti di lavoro, non è stato sempre così, perché noi spesso abbiamo dato l'immagine di essere invece uno Stato, diciamo, forte con i deboli, deboli con i forti, ostile delle volte, a chi creava ricchezza, a chi produceva posti di lavoro, non è la mia mentalità, non è la nostra mentalità, credo che questo segnale sia arrivato ed è già un elemento interessante e penso che alcuni segnali che arrivano anche dall'economia poi rispondano a questo, pur nella condizione economica difficile nella quale ci troviamo, però sicuramente c'è di più da fare su questo e penso che, ripeto, burocrazia e giustizia siano due di quelle cose sulle quali bisogna avere il coraggio e io vorrei farlo quest'anno di mettere le mani in maniera, cioè le mani, insomma, di riformare in maniera seria per dare il segnale anche qui che l'Italia non vuole più essere fanalino di coda degli investimenti esteri. Grazie, cortesemente, domande sintetiche. Ariela Fiatelli, shalom. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei. Il 27 gennaio sarà il giorno della memoria e oggi viviamo in Italia, in Europa e in altri paesi una forte recrudescenza di antisemitismo che si manifesta sotto varie forme e che lei, Presidente, ha più volte condannato. Cosa sta facendo il Governo e quali sono gli strumenti concreti per combattere questa piaga? Dunque, grazie. Intanto voglio dirle questo. A me colpisce moltissimo, l'ho già detto, ma vale la pena sempre ribadirlo, che, per paradosso, le immagini atroci che noi abbiamo visto lo scorso 7 ottobre degli attacchi di Hamas su civili inermi abbiano prodotto una recrudescenza di antisemitismo in tutto l'Occidente. Credo che questa sia una riflessione che bisogna fare, perché vuol dire che covava sotto la cenere. Vuol dire che forse noi non abbiamo, come posso dire, abbiamo sottovalutato soprattutto le forme contemporanee di antisemitismo, che sono quella, per esempio, mascherata da critica verso Israele, così come quella legata al certo fondamentalismo islamico. E guardi, lo dico oggi, perché l'ho detto ieri, quando fu volato,